Buongiorno, scusate se sono un po' sparita gli scorsi giorni, sono arrivata a casa da mia mamma e mia sorella Sono state un po' con loro, un po' con i miei amici, adesso sono tornata e mo' so cazzi Allora, 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 ci sono alcune cose in sospeso di cui dobbiamo parlare se non sbaglio Qualche cazziatone da fare, intanto stasera inizia Tentation Island, ragazzi, muoio, non vedo l'ora Ah, tralasciando per un attimo Tentation, che tanto stasera faremo la telecronaca in diretta di tutto quello che succede Volevo parlare di un'altra cosa, ho saputo che una fitness blogger ha pubblicato delle mie storie rompendomi le palle Eccoci, ciao Quindi, anche se è lunedì e mi fa fatica respirare perché ci sono 40 gradi, apriamo la rubrica cosa non si fa per due follower in più Tesoro mio, è inutile che mi rompi le palle a me perché consiglio alle mie ragazze dei prodotti che io sto provando e che sto usando Insultandomi e dicendo che propongo uno stile di vita sbagliato Ma tesoro mio, ma ti sembro una che va avanti a insalatine, acqua naturale, aria fresca Cioè, oggettivamente lo vedi quello che mangio durante la mia giornata Una cosa mi sembra chiara, cioè che non sono una fitness blogger Nel senso che quando mi capita vado a correre, quando mi capita faccio due squat Mangio come un cinghialino, anche se a volte cerco di trattenermi ma non ce la faccio Quindi non è che sono un'esperta di fitness, però Però non mi spaccio neanche per un'esperta di fitness Cioè, io mostro alle persone la mia vita, mostro alle persone quello che faccio io, va bene Questa è Marta Pascolato, a volte si spacca il mac, a volte cerca di mangiare l'insalata anche se mi entra nei denti e mi fa schifo Questa sono io, punto Ma la cosa più assurda dell'assurdità dell'assurdità è che poi ho scoperto che questi prodotti Questa ragazza li pubblicizza E allora che cosa c'è da un giovane? Beh, perché? Quindi, riassumendo Ho fatto le scale giù e su Una fatica Questa è Crispy McBeck Comunque, riassumendo Ho perso il filo Quindi, riassumendo Non mi spacco di palestra sette volte al giorno? Sti cazzi Non conto i milligrammi di carboidrati che devo ingerire ogni giorno? Sti cazzi Propongo dei prodotti che a me stanno servendo e che sto usando? Sti cazzi Li continuo a proporre, non è che me lo dici te, non lo faccio più Detto ciò, vado a mangiarmi i miei 200 grammi di pasta ragù Che c'ho fame Ma ragazzi, soprattutto a proposito di carboidrati Una spaghettata dei cazzi vostri conditi con olio, aglio e peperoncino Secondo me non vi fa male Basta Buona giornata